Ciao a tutti, benvenuti a Tuesday Entradi Opportunity. Oggi è il F-MOM MC meeting e vediamo la reazione S&P 500 May F perché c'è un livello di capo che vorrei raccontare con voi. Allora andiamo a vedere. Questo delitante frame su S&P 500. Se il prezzo prenderà questo botto double e il prezzo si metterà di 4,250, vediamo che il test si metterà lungo. Il plan B è che se il prezzo perdere questo livello in 4,100, considerate a vendere S&P 500. Tomorrow is a starting Wednesday. If you don't want to miss out, considerate to subscribe to our channel. Thank you!